Intensificata l'attività di prevenzione e controllo del territorio nel capoluogo nisseno durante l'attività sono stati impiegati gli equipaggi del reparto prevenzione e crimine di Palermo in supporto alle volanti dell'ufficio prevenzione generale soccorso pubblico della questura. 60 pattuglie della Polizia di Stato hanno eseguito 51 posti di controllo, identificato 678 persone e fermato 431 autovetture. 8 persone sono state denunciate a vario titolo al locale Procura della Repubblica.